Gli argomenti che abbiamo trattato oggi sono tanti, sono diversi. Vi chiedo subito di fare una carrellata con una sintesi della giornata, cioè dei vari temi, innovazione sul punto vendita, inflazione e previsioni per l'economia, sostenibilità. Quali sono stati gli aspetti che vi hanno interessato o colpito di più? Il capitale circolante netto, perché sono convinto che le criticità che ha evidenziato il professore sono quelle su cui bisogna porre l'attenzione nel prossimo futuro, nel brevissimo termine. Ho la passione di bilanci anch'io come voi, analizzo in un'ottica di benchmark sia i clienti, però abbia ragione perché supervisiono il credit risk management della società e faccio anche analisi chiaramente della concorrenza. Un dato che chiaramente è saltato all'occhio è l'accrescimento del patrimonio netto per un accrescimento del capitale circolante netto. Però come tutti sapete i debiti sono certi come la morte, i crediti e le rimanenze un pochino meno. L'aspetto finanziario mi sembra che... Sì, un finanziario che è legato poi alla gestione, a una scelta strategica di propensione al rischio. Quindi la tematica che evidenziava il professore è di non farsi esaltare dalla situazione, di porre l'attenzione, sì dal punto di vista finanziario, ma che sottende poi una scelta strategica. Ho letto di recente il libro di Leonardo del Vecchio, io credo che si fanno tante volte voli pindarici, ma alla fine della fiera bisogna seguire alcune simple rules, come vengono definite nel libro, e sapere fare bene quelle poche cose. Alla fine è il nostro lavoro tanto complesso, ma tanto semplice. E quindi bisogna porre l'attenzione sui KPI, come vengono definiti in gergo economico. Orsolini. Buongiorno a tutti, quasi buon pomeriggio. Io sinceramente mi porto a casa la risposta unanime che hanno dato tutti alla seconda o terza domanda, questa mattina, che mi ha fatto moltissimo piacere. La domanda che tutti abbiamo risposto sulla tecnologia. Quindi ho visto molto, molto positivamente questa risposta, mi è piaciuta moltissimo. Anche noi in azienda stiamo investendo tantissimo sul punto vendita e soprattutto sulla tecnologia. Tecnologia intesa come miglioramento dei processi. Quindi stiamo cercando di inserire la tecnologia in azienda un po' in tutti i settori, anche in quello finanziario, mettendo al centro le persone. Quindi non inserire la tecnologia così, semplicemente per il piacere di farlo, ma rivisitando e revisionando tutti i nostri processi, mettendo bene al centro le persone, che siano nostri collaboratori o nostri clienti. La tecnologia presa così in assoluto può essere un vantaggio competitivo, ma lo è per breve termine se non mettiamo al centro le persone. Giusto per fare qualche esempio, Netflix non ha ucciso il blockbuster che è stato citato questa mattina, per esempio, semplicemente per un discorso di tecnologia, ma perché grazie alla tecnologia ha rivisto tutti i processi di esperienza d'acquisto del cliente, in questo caso mettendo al centro il cliente. Lo stesso vale per Apple nei confronti dell'industria musicale, per esempio, o di Uber nel settore dei taxi. sta uccidendo, sta stravolgendo questo settore, ma non grazie alla tecnologia. E basta, ma perché ha messo al centro le persone, il cliente e il collaboratore. Quindi per noi questo momento storico, da un paio di anni, due o tre anni, di grandissimi investimenti in tecnologia, lo abbiamo voluto arricchire mettendo al centro le persone. Squinzi, uno dei temi trattati, va benissimo quello, uno dei temi trattati al centro mi sembra che sia anche quello della sostenibilità. E diciamo fino a qualche anno fa chimica e sostenibilità era come dire fare una squadra mista Milan-Inter o Juventus-Torino o Roma-Lazio. Invece adesso non è più così. Sono punti di vista. No, una volta la percezione era questa. Ricordare che l'essere umano, in quanto umano, è chimica fondamentalmente. Chimica di tutti, di tutti i tipi, perché noi non funzioneremmo senza la chimica. Quindi non è proprio vero che chimica voglia dire... No, dico la percezione che si aveva. La percezione, ma proprio perché la percezione vuole ricordare che la chimica non è in realtà. Noi siamo fatti di chimica, tutte le cose naturali sono fatte fondamentalmente di chimica. Anche la fotosintesi forse è una delle sue forme più estreme di sostenibilità. Cioè quella consuma CO2 e usa l'energia del sole, ok? Perché per fissare la CO2 ha tutto e quella è chimica. Quindi non è così. Io penso che oggi sono state dette tante cose. È molto importante, anche se non rispondo immediatamente alla risposta, secondo me è molto importante ricordarsi qual è il nostro ruolo. Noi stiamo parlando non delle imprese o delle cose, ma di una filiera, che è la filiera dell'edilizia. O funziona la filiera o non si può parlare di sostenibilità, di sviluppo, di costruzione. Non si può parlare di niente. O c'è una filiera o i singoli non possono portare un risultato. I singoli non possono da soli portarsi in carico le responsabilità degli altri. Il concetto di una rivendita che si mette a fare general contractor, contractor, impresa, distribuzione, produzione, non è sostenibile. È sostenibile che in questa filiera tutti i membri di questa filiera abbiano chiaro qual è la loro responsabilità, il ruolo o il ruolo, cercano di coadiuvare il lavoro di quelli prima e di quelli dopo affinché poi il risultato finale sia forte e duraturo. Quindi è chiaro che nessuno di noi crede che i produttori all'Amazon... Amazon di fatto è un distributore, però nessuno di noi crede che i produttori possano andare a valle al cliente finale. La rivendita e la distribuzione hanno un ruolo fondamentale che deve essere ricordato e deve essere portato avanti perché senza la rivendita e senza la distribuzione l'impresa che arriva, il Magut che arriva e rivendita, che chiede una cosa ma quando fa la domanda non ha nemmeno ancora chiaro cosa ha bisogno, se non avesse il banconista che poi ti dà la risposta o cerca di interpretare qual è la necessità e lo guidasse e riesce a guidarlo per andare nella direzione che gli serve dandogli una scelta di prodotti che possono meglio soddisfare le sue esigenze, senza questo tipo di rivendita non c'è filiera, non c'è possibilità di evoluzione. E questo secondo me è importante. Ma c'è davvero questo tipo di rivendita? Parliamo del livello minuto. Secondo me la rivendita ha delle figure dentro, da sempre ce le ha avute delle figure, può essere quello che fa la promozione, quello che fa il commerciale, in alcune rivendite più evolute, ma banalmente il magazziniere, il banconista, ci sono un sacco di persone che fanno più di noi, perché noi non potremmo noi produttori, consulenza a tutto il resto della filiera. Poi ovviamente noi non possiamo delegare a loro esclusivamente questo lavoro, come una filiera, noi come produttori dobbiamo fare un lavoro importante di promozione a monte. Loro devono andare avanti a farlo a valle e a monte anche loro, perché ricordiamoci che oggi le migliori rivendite che hanno uno showroom di fatto portano, cercano di creare un punto d'incontro della filiera dove riescono a far vedere i materiali, a toccare i materiali, o spiegare nel dettaglio i materiali, anche se è vero che oggi la signora Maria che arriva forse ne sa più dei banconieri su certi materiali, però comunque al di là di avere una distribuzione dell'informazione molto importante, il ruolo della rivendita è fondamentale e soprattutto anche logistico, perché ricordiamoci che se devo mandare una carteccia di silicone forse è ancora più conveniente mandarlo via Amazon, ma tanti altri materiali o superano le dimensioni per essere spedite con il DHL, quindi bisogna ancora spedire alla vecchia maniera, ma soprattutto o c'è una logistica, un servizio, una velocità di approvvigionamento, la capacità di portare anche nei centri storici, con dei problemi logistici, materiali, anche piccole consegne, anche più volte al giorno, perché non c'è uno spazio nel cantiere dove mettere i materiali, questo è il ruolo della rivendita ed è fondamentale che la rivendita rimanga. Perché ho detto questa cosa all'inizio per rispondere alla domanda originale? È importante la sostenibilità? Sì, è certo che è importante la sostenibilità, però questa sostenibilità può essere portata avanti soltanto se a livello di filiera tutti si vanno nella stessa direzione. Proprio ieri è uscito una ricerca del centro Inaudi, uno dei centri di ricerca italiani, che paventa un rallentamento verso gli obiettivi di sostenibilità a causa del caro inflazione, caro energie, eccetera. Lei come la vede? Io penso, la nostra azienda crede nella sostenibilità, nel green da tanti tempi, perché questo che abbiamo iniziato a sviluppare, a collaborare con, in realtà ancora prima in Canada, però già negli anni 80, 1980, quindi stiamo parlando più di 40 anni fa, abbiamo iniziato a lavorare con l'Istituto tedesco per avere una marcatura di prodotto per quanto riguarda le emissioni di prodotti. Certificate, mi pare, poi faceva parte del TUF tedesco. E l'obiettivo era quello di fornire a quei tempi, che non si parla di sostenibilità, ma di più di ecologia, dei prodotti che fossero certificati nella terza parte, sulle emissioni di prodotto. Siamo tra i soci fondatori di IGEV, che è quello che poi ha portato, di fatto ha reso universale l'etichettatura per quanto riguarda le emissioni dei prodotti. Quindi il nostro percorso in questa direzione è molto lungo. E ovviamente, forse anche grazie alle dimensioni, l'essere internazionale presente in tutti i continenti, ci ha dato la possibilità. Quanti paesi siete? Non lo so, ma sono tanti. Di fatto, a parte tutti i paesi in Nord America, Sud America, Europa, Asia, siamo presenti in quasi tutti. C'è qualche paese diciamo del centro Africa dove non siamo presenti, però in tutto il resto degli altri paesi siamo presenti. Poi, bisogna ricordarsi, si può essere presente direttamente con uno stabilimento, come nella maggior parte, o presente con un distributore che ti rappresenta nel paese anche se tu fisicamente non sei presente. Quindi, di fatto, poi siamo dovunque. Secondo me, bisogna stare attenti a non rendere tutto troppo generale. Allora, è certo che se non c'è il gas, non c'è la previsione di gas, c'è la centrale a carbone, forse è meglio si accedere alla centrale a carbone prima di distruggere tutto il resto. Certo che se lo guardi da un punto di vista prettamente di LCA, di valutazione, impatto ambientale, il giorno che è acceso la tua centrale a carbone per kilowattora prodotto di energia, il gas va a 21 e l'altro va a 42, quindi stai emittendo il doppio delle emissioni di CO2 a parità di energia prodotta. Però, non possiamo prendere o essere terrorizzati da cosa succede in due mesi, in tre mesi e pensare che quello che succede in tre mesi poi di fatto possa cambiare debba essere una motivazione di cambio di direzione. Penso che tutti noi abbiamo lavorato nell'industria chimica parlando come FederChimica, le industrie chimiche sono quelle che hanno lavorato in assoluto di più nel settore per aumentare la loro efficienza, infatti pretendere che aumentino ulteriormente la loro efficienza è un po' difficile. Ci sono tanti altri settori dove c'è un forte spazio per aumentare l'efficienza, quindi vuol dire impatto, sostenibilità e tutto quello che ne deriva. Io penso che il percorso è segnato, dobbiamo andare, magari non si raggiungerà l'obiettivo del Green Deal nel 2050 che forse era stato un po' forse sarà un po' posticipato, forse non sarà mai raggiunto e ci si fermarà non alla carbon neutrality totale nel 2050 ma comunque in quella direzione, però penso che il percorso è segnato e non ci sia nessun motivo di rallentare. Bisogna e ritorno al discorso di filiera essere coscienti che oggi ci sono i materiali, ci sono le soluzioni, ci sono anche quelle vecchie, ci sono però anche quelle nuove. Si tratta di fare scelte e di promuovere nella filiera questi materiali e diciamo che forse grazie anche a tutto quello che ai media ha le comunicazioni, ai giornali, a tutti, insomma, una volta si va di impronte di carbonio e ti guardavano male e adesso sanno pure tutte e due. Tutti noi appena alzati guardiamo il prezzo del gas del TTF, ormai abbiamo tutti una sensibilità maggiore, quindi io penso che se nella finiera i materiali ci sono, i distributori ci sono, chi fa la formazione c'è, gli architetti sono sensibili, i committenti sono quasi obbligati a usare questo tipo di materiali, il settore più energivoro del mondo che è la casa perché la casa e l'edificio è il settore più energivore in assoluto con quello che è i materiali da costruzione e il consumo energetico, l'impronta di carbonio non è soltanto nella costruzione o nella manutenzione ma nel ciclo di vita dell'edificio e il consumo energetico l'edilizia deve e la sua filiera portare avanti con la maggior responsabilità la transizione verso l'abbattimento dei consumi energetici e il mantenimento delle strutture patrimonio immobiliare che c'è e la ristrutturazione di questo patrimonio per evitare di buttare giù tutto e di fatto buttare a maceria un sacco di altri materiali e riprodurne tanti altri che per quanto poco energivori saranno sempre energivori per riovviare le stesse cose Certo Sebacher Allora innanzitutto le chiedo cos'è l'aspetto che era più colpita della giornata tra i vari e sono stati tanti argomenti Beh innanzitutto mi colpisce la platea perché questo è un bel stress test che stiamo vivendo e quindi complimenti a tutti che sono presenti perché effettivamente la mattinata è molto ricca piena di contenuti ma comunque è ora che andiamo a giare quindi sarà molto breve mi ha colpito e vorrei prendere un po' l'esempio nostro cioè io alcuni anni fa ho letto Utrade da poco nel settore e leggo tutto il settore veramente cresce a parte Unifix tra l'altro era anche vero Allora ho chiamato il mio capo marketing senti Max qua e forse dobbiamo conoscere la signora però la vogliamo conoscere quando siamo un po' più in forma perché ovviamente abbiamo fatto una trasformazione importante all'interno dell'azienda con un po' tante cose che oggi ho sentito quindi mi sento molto diciamo incoraggiato e abbiamo fatto un percorso di cambiamento aziendale di strategia di quello che vogliamo fare perché vogliamo essere utili al mercato perché un'azienda che non è utile può anche chiudere e quindi eravamo su queste scelte qua abbiamo fatto scelte abbiamo implementato le scelte abbiamo portato nel pullman le nostre persone perché senza persone non funziona creando un'academy con la quale abbiamo formato abbiamo formato verso il mercato cioè credo che tanto di quello che oggi abbiamo sentito l'abbiamo fatto all'interno di Unifix e oggi devo dire le cose funzionano molto bene cambiando anche purtroppo e questo fa anche male cioè il manager dovrebbe riuscire a cambiare le aziende senza cambiare le persone purtroppo questo non ci sono riuscito ho dovuto cambiare il 100% del nostro management vendita perché non siamo riusciti a incolcare quello che era diciamo un nuovo modello un modello sostenibile perché ripeto se l'azienda non è sostenibile non ha un progetto non ha un'idea non ha comunque un qualcosa da dare al mercato che ha senso è meglio che la chiudi e quindi oggi mi sono sentito bene qui con Virginia ringrazio ancora per l'invito una tenata splendida e devo dire tutti i temi sono stati toccati importanti ma comunque qui dentro il problema non c'è perché se uno viene qua perché il cambiamento nasce dalla mettersi in discussione e accettare anche di essere stimolato su temi stamattina abbiamo avuto tanti stimoli e tutte le persone qui dentro che sono venute sono quelli che non vengono a questi conveni che forse devono stare un po' più attenti a mio viso quindi le rivendite che spensano di aver capito tutto invece io credo che tutti noi dobbiamo anche con un po' di capelli grigi essere stimolati per far sì che miglioriamo giorno per giorno quindi il miglioramento quotidiano è quello che produce cambiamento io non credo molto nel cambiamento radicale se non per alcuni aspetti credo che ogni azienda deve avere un'energia intrinseca di voler migliorare giorno per giorno quindi lì in automatico arriva la sostenibilità arriva il dipendente arriva la formazione arriva tutti i temi che fanno sì che le aziende funzionino trasparenza chiarezza dico quello che faccio faccio quello che dico fine e con questo penso anche oggi come ieri le aziende si possono gestire molto bene come vede la sua azienda tra dieci anni? a servizio di quello che è il mercato che si trasformerà sicuramente però sempre molto attenti a interpretare quello che sono le cose che succedono nel mercato quindi con questo mantra che noi non vogliamo essere più perché avevo anche un colpito molto facile cioè noi eravamo i follower cioè è la cosa più idiota che puoi fare secondo me cioè puoi inseguire perché in automatico ti dai secondo cioè noi oggi vogliamo essere leader del settore non per volume ma per quello che facciamo perché lo facciamo bene con serietà con grande voglia e questo tipo di energia rimane dentro quindi anche tra dieci anni saranno cambiati alcuni aspetti il mercato si sarà sicuramente concentrato o consorziato diciamo queste tendenze sono visibili e il singolo o è veramente bravo 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 oppure meglio che si rifugia dentro in qualche sorzio piuttosto che forse un'acquisizione di quello che abbiamo già visto che sono in atto quindi il mercato cambierà Unifix cambierà però ci vediamo molto pronti per affrontare i temi futuri Zanuta Federico della Puppa prima accennava a un processo come dire di lievitazione del settore dei singoli e mi sembra che anche voi siate orientati a come dire a una politica di accrescimento però si parla anche di fare attenzione al crescimento non solo del fatturato ma come dire una crescita ponderata come la vede intanto grazie Virginia perché ogni volta organizza meglio questi eventi e sicuramente entriamo con in questo periodo con tanti dubbi tante idee e magari usciamo con qualche qualche certezza in più chiamarla certezza oggi è un'utopia sicuramente quello che mi ha colpito di tutti i relatori il dottor della pupa ha scritto un più sette e mezzo nel 2023 e quello lì mi è rimasto molto impresso perché lo ricorderò per il prossimo anno perché è una previsione ben definita ben e secondo me un po' ottimistica se devo essere onesto in quanto le variabili non tanto perché è un numero e oggi è difficile tirare un numero quanto perché le variabili che noi ponderiamo oggi domani mattina sono vecchie domani mattina io non ho ancora capito cosa affarà su questi bonus su questi crediti il nuovo governo l'orientamento che prenderà cambierà un 30% di quella previsione le guerre domani mattina non so se la cina molla il taiwan o non lo molla che reputo che sia la guerra principale da risolvere e quindi è un altro 30% di prevedibilità che se ne va quindi onestamente parlando in questa riunione Virginia mancava il mago telma il mago telma perché le previsioni qua veramente oggi sono veramente difficili e veramente è difficile capire tutti ci dicono dovete cambiare sì noi cerchiamo di stare sul pezzo cerchiamo di capire dove orientare la barca e dobbiamo cercare di cambiare in con una elasticità frenetica però sapere precisamente dove dove si deve cambiare come si deve cambiare è molto difficile è molto difficile come è diverso il ruolo che noi stiamo svolgendo in questi anni e arrivo alla domanda che mi sta facendo sì la nostra la nostra politica è quella di crescere per acquisizioni e crescere come struttura organizzativa interna quindi c'è una crescita interna e una crescita esterna sia la politica giusta spero di sì spero di sì e sono abbastanza convinto di quello che sto portando avanti e di quello che sto dicendo anche in considerazione che concordo con molti dei dati che il dottor della pupa ha messo sullo schermo dirle che il mercato riuscirà ad avere perché la crescita comporta determinate situazioni che possono essere controproducenti in un mercato estremamente dinamico quindi bisogna crescere mantenendo un'elasticità feroce un potere decisionale immediato e non nell'alto ma nel puntuale alla fine della filiera quindi sì sono convinto di quello che sto facendo probabilmente però non è l'unico sistema che reputo sia valido ce ne sono molti altri per avere una visione del medio periodo che sono altrettanto validi e hanno dei punti deboli su certi aspetti hanno dei punti di forza su altri cosa ne pensa dell'allargamento anche ad altre attività come per esempio l'esempio che abbiamo sentito questa mattina al settore energia per esempio o invece è meglio focalizzarsi solo sul mestiere che avete sempre fatto finora sicuramente diciamo che anche questo settore calca un tasto che sto cercando di portare avanti da anni definendomi un generalista specializzato che sembra una contraddizione però è un po' quello che porta avanti nel senso che dal mio punto di vista dobbiamo offrire una gamma sempre più completa però per offrire questa gamma completa dobbiamo specializzare ogni singolo settore all'interno si può fare per linee esterne con partita IVA diversa e si può fare per linee interne con un'unica partita IVA io lo sto cercando di farlo con un'unica partita IVA il settore energetico lo sto approcciando sono sicuramente molto più indietro dei colleghi lermini che hanno avuto una visione nel 2019 sicuramente più avanti perché adesso si tratta di riuscire a intravedere quelle che saranno le cose concrete da portare avanti nei prossimi due anni perché possiamo anche sognare a dire sì magari fra qualche anno nelle nostre sale mostre ci sarà il metaverso ci sarà mille situazioni però noi nei prossimi due anni dobbiamo puntare su dei cavalli di sostenibilità di prodotti da inserire di metodi di vendita che siano sostenibili nei prossimi due anni intanto e dopo di che possiamo sognare di medio periodo e fare una programmazione che duri però oggi nel breve il suo inserimento è tempestivo noi anche se inseriamo oggi il fotovoltaico che lo stiamo facendo siamo tardi siamo tardi siamo già con le carovane del mediatore dell'intermediario della Cina della Cina che non arriva e quindi siamo già in un secondo passaggio bisognerebbe riuscire a vedere cosa c'è oltre al fotovoltaico fra un anno fra due anni allora riusciamo a essere veloci e concreti nelle azioni che andiamo a fare ok siccome oggi è anche la giornata mondiale del moderatore di convegni e ho pietà di voi perché sono le due meno un quarto facciamo una velocissima carrellata vi richiedo come ho chiesto stamattina che cosa vorreste dal nuovo governo una cosa io sono poco politica lì corretta quindi non posso dire quello che penso cose concrete qui vogliamo diciamo che un'attenzione io ho fatto la Bocconi eppure sono particolarmente con Vincenzo Monti Mario perdonatemi è la via di Milano Mario Monti Vincenzo Monti è la via di Milano è la via di Milano poeta esattamente con Mario Monti che ha dato via libera alle società responsabilità limitata semplificata se voi pensate che la patrimonializzazione media delle nostre imprese clienti è virata verso il basso negli ultimi anni anziché aumentare è qualcosa che è drammatico e non si può non pensare che un'attenzione io credo sono relativamente giovane nel senso che sono dell'88 ma mi pare di capire che l'SRL i 10.000 euro di capitale sociale sono stati praticamente una conversione di quelle che erano le lire quindi in pratica la patrimonializzazione contabile richiesta per una società di responsabilità limitata è praticamente la stessa da decenni ok non è pensabile creare un ciclo virtuoso in cui non si premia chi capitalizza le imprese se pensate le cooperative la famosa dietriba tra l'SLunga e le Coop qualcosa che Caprotti contestava sempre alle cooperative era il fatto che ci fosse una razio positiva a questo ossia il fatto che il rinvestimento degli utili delle cooperative fosse esentasse ecco io mi aspetterei qualcosa legato a questo perché la domanda che ci dobbiamo porre è come andiamo a rinvestire questi extra profitti perché di questo bisogna parlare perché la realtà dei fatti è che si parla di extra profitti nel mondo dell'energia lo sentite parlare sui giornali questo termine lo sentite dire nei giornali questo termine io credo che sia corretto parlare anche nel nostro settore perché effettivamente ci sono stati degli extra profitti che sono partiti dalle imprese evidentemente perché basta guardare i bilanci delle nostre imprese clienti e sono eclatanti talvolta anche forse esagerati per certi versi bisogna domandarsi come questi extra profitti verranno reinvestiti sul mercato e noi questa domanda ce la poniamo e pensiamo alla prudenza e qui torno al discorso precedente che è quello del capitale circolante netto perché prima il professore diceva una cosa che era molto ovviamente intelligente legata al capitale circolante netto e partendo dal tema dell'inflazione ma se l'inflazione fosse solo congiunturale non fosse strutturale e domani la domanda calasse e calasse di tanto rispetto all'offerta in termini di volumi quello che accadrebbe sarebbe un abbassamento dei prezzi che genererebbe deflazione e questo comporterebbe che le merci che tutti abbiamo a magazzino perderebbero di valore e generebbero delle perdite quindi a bilancio in conto economico stessa cosa legata al mondo dei crediti laddove i crediti non fossero più esigibili genererebbero delle perdite quindi io sono molto d'accordo con Vincenzo Zanutta riguardo al fatto che ci voglia tantissima prudenza perché ci vuole veramente il mago Telma e sono estremamente d'accordo da questo punto di vista per cercare di capire cosa succederà e quindi quando non si sa bene che cosa succederà credo che la prudenza non sia mai troppa mi piacerebbe evitare di vedere ecco dei pagamenti a 120 150 che alcuni nostri competitor sono presi dall'ebbrezza peraltro viettate eh 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 esatto parliamone è un'altra ecco si potrebbe pensare qualcosa legato a questo a questo tema ecco se parliamo del governo cercare di eliminare queste brutte prassi che sono assolutamente pericolose per la filiera perché di questo si tratta perché se le imprese e clienti non ci pagano noi rischiamo di non pagare i produttori e così via Borsolini la domanda è difficile e la risposta ancora di più magari mi prendo un paio di mesi per pensarci visto che ci avviciniamo a Natale farò una lettera a Babbo Natale per di augurio per questo nuovo governo nella nostra carta dei valori è presente una parola che è trasparenza è una una parola importante molto anche pesante da portare avanti tutti i giorni trasparenza vuol dire chiarezza vuol dire ehm capire bene che cosa si può fare e che cosa non si può fare quindi un che cosa mi aspetto nei prossimi anni da questo governo e anche dei successivi è quello di avere per noi imprenditori per tutti gli investitori e soprattutto quelli esteri la chiarezza del diritto ma anche dei doveri ovviamente abbiamo un patrimonio immobiliare che tutto il mondo ci invidia per storicità per antichità per bellezza e molto spesso questo grande patrimonio è anche piuttosto malandato quindi abbiamo una enorme incredibile potenzialità nel nostro settore nel nostro paese una certezza e chiarezza di cosa si può fare per tutti gli investitori è sicuramente un augurio che mi faccio ottimo Squizzi prego allora forse non lo so magari è troppo presto per dare un giudizio l'ideale sarebbe avere ancora quello vecchio o che il nuovo segua con un pochino di continuità quello vecchio ok perché secondo me penso che sia importante come ha detto qualcuno prima è la continuità un imprenditore è una persona che di base prende rischi cerca di prendere i più possibili di pancia ma anche calcolando però serve fondamentalmente investire se investi devi avere un minimo di visione di cosa ti aspetta davanti non dico saperlo preciso e concordo che sarebbe forse meglio chiedere a Magotelma però devi avere una visione oggi la cosa più preoccupante che c'è è che siamo tutti terrorizzati questa è la cosa preoccupante e secondo me nella realtà poi possiamo girare in tondo c'è una sola unica causa non è la guerra è il costo dell'energia perché la verità è solo il costo dell'energia secondo me prima parlavamo di inflazione adesso magari l'Italia è un po' drogata il nostro settore è un po' drogato noi stiamo in stagflazione cioè a livello globale i volumi stanno calando cioè non è che forse caleranno stanno calando noi parlavamo di inflazione del beh in realtà secondo me l'ultimo dato aggiornato è del 9% nella zona euro cioè non è del 6% è del 9% poi se guardi magari qualcuno che lo misura è preciso dice che è il 15% ok nei materiali da edilizia adesso non è colpa di nessuno è colpa dell'energia ok diamo la colpa all'energia e ognuno di noi giustamente ha cercato per sopravvivenza di ribaltarla quello dopo l'inflazione non è del 10% l'inflazione è alcuni materiali del 100% alcuni materiali penso un settore medio sarà vicino al 20% al 30% quindi nei materiali da costruzione quindi se noi stiamo facendo più 20% più 30% stiamo attenti come ha detto l'ultimo relatore non guardiamolo col 9% guardiamo le quantità le quantità non è che sono cresciute così tanto c'è stato magari uno spostamento da qualche fascia di prodotti ad altre fasce di prodotti ma stiamo attenti perché sono cresciuti ma non così tanto ok sono cresciuti tanti fatturati il problema è che se qui o si ferma il sentimento negativo e la fiducia in quello che sta per accadere o tutta l'edilizia e tutti gli altri settori rallentano questa inflazione o stagflazione è dominata da un solo parametro il costo delle cose ok perché giustamente l'inflazione tu la misuri quanto è aumentato il valore di un bene vabbè i valori le spese energetiche nel grafico che è rappresentato sono la componente più alta che è cresciuta ricordiamoci che le bollette per la famiglia c'è la quota contatore vettoriamento che è una quota fissa e pesa tanto per un'azienda dal il costo del gas che poi è legato all'energia dal 2019 è passato da 20 centesimi a 2 euro cioè i costi veri delle bollette sono aumentati di 10 volte per un produttivo nella famiglia magari si vede di meno poi certo qualcuno di noi è stato ha avuto una botta di culo scusatemi la parola la madonna ha fissato il prezzo per il 2022 e quindi magari lo sta pagando due volte e non 10 volte il problema è che è chiaro quello che succede nel 2023 che se il prezzo dell'energia non scende lo pagheremo quello che lo dobbiamo pagare anche se diciamo siamo riusciti a avere manovre compensative per moderare una parte di questi consumi di prodotti come fai il primo l'energia secondo il cibo nel grafico c'era il cibo ricordiamoci che il motivo per cui ho aumentato il cibo mica è soltanto perché manca il grano dell'Ucraina ma è perché i costi di produzione del cibo i costi di produzione della pasta i costi per la fermentazione i costi energetici per fare il cibo comunque sono significativi e sono aumentati in maniera drammatica i costi dei trasporti perché vogliamo ricordarci quando mandare un container dall'Asio o tu un container che mandi era 12.000 euro invece dei 1.500 euro 12.000 euro questi hanno avuto un impatto sull'inflazione di tutti i nostri prodotti quindi cos'è che chiedo secondo me tutte queste cose generano una continua inflazione da energia è inflazione da energia inflazione da energia fittizia perché non è un vero costo dell'energia perché fidatevi che i norvegesi che non hanno mai fatto più soldi con l'unità europea come l'unità europea come negli ultimi due anni un anno e mezzo che molti non si ricordano ma se voi andate a vedere quando è iniziato a aumentare il TTF è aumentato a giugno 2021 che Putin manco aveva preparato la guerra ok e gli americani non l'avevano nemmeno detto l'inflazione del TTF è aumentata a giugno 2021 non 2022 giugno 2021 io dico stiamo attenti perché questa inflazione è generata da speculazione finanziaria è speculazione finanziaria e i norvegesi giustamente come tanti altri e gli americani stanno facendo un botto di soldi perché i norvegesi che hanno come noi il nostro costo di estrazione del gas nel nostro paese penso sia sui 5 sui 10 euro 10 centesimi ok quello che noi produciamo e lo vendiamo negli ultimi mesi a 200 ok il costo di importazione del gas del primo importatore dall'Algeria i contratti erano a 20 centesimi forse ultimamente li hanno messi a 40 e quando tra l'Italia e la Spagna ce li siamo rubati la fornitoria forse è arrivata a 70 ma non a 200 io dico cosa chiede al governo che abbia continuità e da un certo punto di vista positivo è il fatto che abbiano mantenuto Cingolani che rappresentava il vecchio governo come consulente almeno come consulente una continuità per andare avanti a far sì che questa bolla speculativa del prezzo del gas che poi porta il prezzo dell'energia e di tutto il resto riporti ma secondo me serve continuità perché noi oggi stiamo vedendo un effetto di abbassamento del costo ma stiamo attenti è una bolla anche questa al contrario purtroppo perché vogliamo ricordarci che il gas è iniziato a scendere quando è finita la negoziazione di tutti gli acquirenti per l'anno termico perché è iniziato il nuovo anno termico prima di iniziare l'anno termico tutti dovevano fissare il gas quando la maggior parte di tutti i paesi hanno riempito gli stoccaggi e quindi non avevano più bisogno a qualsiasi condizione di riempire gli stoccaggi e poi vogliamo dire grazie al riscaldamento globale questa volta dobbiamo ringraziarlo il riscaldamento globale siamo a fine ottobre siamo a fine ottobre cacchio e io sono uscito ieri in manica di camice quindi dobbiamo ringraziare queste cose ma queste cose a novembre non è detto che ci siano e se iniziamo a consumare potrebbe esserci un effetto di nuovo speculativo io dico che bisogna stare attenti la speculazione sull'energia genera un'inflazione che blocca il consumo e lasciala in persone a casa perché nella realtà vera è che se non fosse sceso adesso un pochettino noi tante imprese avrebbero chiuso molte al primo 10 settembre hanno chiuso a ottobre molte aziende produttive hanno chiuso e hanno messo jensen in casa di integrazione quindi io chiedo al governo mi raccomando continuità fate scendere controllate il costo dell'energia non date soldi per far scendere le cause che hanno creato questa speculazione energetica ok se vancher io penso che dottor Squinzi è stato un po' più ampio bellissimo però io chiudo anche perché non sono io politicamente sono molto non dico deluso ma comunque molto distante perché ma richieste esatto no 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 ma proprio perché credo che sia un teatro e purtroppo quello che sono le scelte poi cambiano le sedie quindi io vorrei agganciarmi a quello che ha detto Valeriano Fiorentini mi aspetterei solo chiarezza e continuità e voglia di veramente rappresentare il popolo e le aziende perché le aziende che producono ricchezza e quindi se non veniamo storditi da mille regole che sono spesso volentieri assurde e anche non utili credo che questo possiamo solo segnerlo tutti quanti quindi questo è il mio sogno di avere un governo che forse riesce a star lì non sei mesi o quattro ma forse anche quattro anni a parte i colori destra, sinistra sopra sotto non mi interessano però che sia continuità logiche che vanno pro popolo pro azienda in modo che possiamo lavorare questo sogno di notte e spero che prima o dopo sia veri Zanutta le scrivo le cose che chiedo così le mandiamo anche allora secondo me è indispensabile per scrostare una parte delle previsioni è che rendano i crediti fiscali denaro circolante carta circolante se riusissimo a fare circolare il credito come fosse denaro a quel punto lì noi avremmo sbloccato il bonus altrimenti il bonus attenzione molto difficile perché lei come sa l'unico che può emettere moneta è la BCE sì però possiamo andarci vicino non serve che la trasformiamo in un'altra moneta però possiamo farla circolare con un po' più di responsabilità come diceva il precedente tavolo dove si diceva che deresponsabilizziamo la filiera e già lì gira più veloce da lì facciamola tornare avanti e indietro nelle aziende a certe banche io avevo proposto ok io te la vendo oggi il credito domani mattina io te lo consumo e me lo ridai adesso intesa ha cominciato a proporre questa cucagna un metodo che potrebbe essere funzionale per non farsi finanziare e consumare comunque perché siamo comunque delle persone che consumano credito fiscale quindi il primo tassello è questo che sblocca i bonus se non si sblocca questo il bonus è morto non ci sarà bonus bonus condomini perché alla fine non esiste più un'impresa che fa che fa sconto in fattura il secondo aneddoto che fa parte delle previsioni è lo sblocco dell'opera pubblica c'è un mare di soldi ma c'è un'incapacità territoriale galloppante nel far partire non so se è solo la burocrazia o se proprio non sono capaci certo è che ci sono miliardi fermi nelle regioni nei comuni e questo è il nostro lavoro se partono queste benedette opere pubbliche riescono a lì allora non si può farlo non si può farlo perché bisogna fare la gara europea la gara è qua per fare una gara lì ci sono tot spese di anticipo e quindi tre quarti dei soldi distanziati vengono mangiati in professionisti in ruppi in controruppi e tutte queste storie quindi un altro aspetto essenziale che è indispensabile per far partire l'altro 30% del 7,5 ed infine nel medio lungo periodo mi piacerebbe sognare e chiedere quello che chiedono un po' tutti una riforma fiscale una riforma della giustizia una riforma del lavoro qua siamo molto generici e non vado nel dettaglio perché stiamo fin qua fin domani mattina perché io una mia idea ce l'ho però sicuramente sognare un'Italia sburocratizzata con delle norme trasparenti come ha detto qualcuno prima trasparenti che siano leggibili e che mettono l'imprenditore nelle condizioni di fare delle scelte perché oggi l'imprenditore gli si fa una norma il giorno dopo se la si cambia il terzo giorno si modifica e quindi che metta l'imprenditore nelle condizioni di fare delle scelte belle o brutte che siano ma sono delle scelte fatte su delle basi ferme questo è quello che nel medio periodo mi piacerebbe sognare di vedere bene grazie a tutti grazie a Virginia Gambino grazie anche alla regia impeccabile grazie a tutti 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 Grazie a tutti.